Diego Zuppel è pronto a diventare un nuovo calciatore della Virtus Francavilla. In mattinata, infatti, l'attaccante classe 2002, nativo di Castiglione del Lago, ha risolto il contratto che lo legava allo Spezia per mettere poi nero su bianco con la società del presidente Antonio Magri. L'intesa è già stata raggiunta nei giorni scorsi per un contratto biennale, alto e ben strutturato. Diventa così il secondo tassello under per il reparto offensivo di Alberto Villa e andrà a contendersi la maglia da titolare con Gabriele Artistico in forma super in questo precampionato. Resta in stand-by, invece, la trattativa per il croato Nicola Buric del Novara in un'operazione che potrebbe comunque assumere gli stessi connotati di quanto verificatosi per il ventenne ex Messina. Se ci sarà l'accordo per la risoluzione con i piemontesi, l'ex Dinamo Zagabria avrebbe così il via libera per la firma con il Francavilla. Intanto, però, il DS Antonazzo piazza un altro colpo in entrata. Zuppel è pronto a diventare un nuovo tassello della Virtus 2023-2024.